Finisce un'epoca in Argentina, nel ballottaggio presidenziale tra due candidati di origine italiana vince e libera al conservatore Mauricio Macri. Lucia Graccio. Sono qui perché voi mi ci avete portato, perciò vi chiedo, non mi abbandonate, restiamo insieme. Il 10 dicembre comincia questo periodo meraviglioso per l'Argentina. È qui, è adesso. Una pioggia di palloncini chiude un'epoca e suggella una giornata storica. Il candidato del centrodestra Mauricio Macri ha sconfitto al ballottaggio Daniel Scioli, peronista moderato. Il sindaco di Buenos Aires ha battuto il governatore, 51,4% contro il 48,6%. Si chiude l'era della presidenta Cristina, finisce il kirchnerismo, cominciato anche prima nel 2003 con il marito Nestor. Sangue italiano nelle vene del nuovo presidente dell'Argentina. Mauricio Macri, 56 anni, figlio di un ricco imprenditore calabrese, sarà alla Casa Rosada dal 10 dicembre. Macri ha convinto la maggioranza degli elettori proponendo riforme a favore delle imprese e abolizione delle misure protezionistiche per far ripartire la terza economia dell'America Latina. Domani il primo incontro con Cristina Kirchner. Ex presidente del club di calcio Boca Juniors, Macri, in 12 anni, ha ricostruito stadio e identità della squadra. Con lui, 17 i titoli conquistati dal club. Ma l'Argentina non è una squadra di calcio e il pubblico non è tutto dalla parte di Mauricio. Quello che Macri eredita è un paese diviso a metà, tra chi non vuole rinunciare a un welfare generoso e chi chiede un'economia più libera che torni a crescere. Come sintetizza un quotidiano di Buenos Aires, un presidente, due paesi.